Milano, 29 gennaio 2009 Osservatorio Multicanalità 2008 La multicanalità lascia o raddoppia? Ecco il titolo di uno degli appuntamenti più attesi della business community italiana. Anche quest'anno, cuore del progetto è la ricerca condotta sul panel Nielsen Omskan, i cui dati verranno integrati e supportati da ulteriori analisi dei database Nielsen e Nielsen Online, statistiche, accessi, dinamiche e trends, e contestualizzati poi grazie alle ricerche della School of Management del Politecnico di Milano e con Nexia. La ricerca 2008 conferma una sempre maggiore propensione del consumatore italiano alla multicanalità. Sono ormai 7,2 milioni gli italiani la cui decisione d'acquisto e relazione con la marca sono determinate dall'interazione con molteplici canali di comunicazione. I dati emersi in questa edizione impongono alle aziende un orientamento multicanale.